La trasmissione è offerta da 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 Quattro generazioni A questo punto, cari amici, non vi rimane che Seguirci Ci troviamo sul pontile di Tonfano Attorniatevi dal Puane, dall'altissimo E questo mare che è una meraviglia Siamo insieme dal sindaco Alberto Giovannetti Per la seconda puntata di Pietrasante ed intorni Grazie di essere ancora ai microfoni di Canal Italia Grazie a voi, benvenuti E naturalmente qua è un bellissimo territorio Quindi offre mare, collina, offre tutto Devo dire che è una bellezza naturalistica unica E difficilmente replicabile, signor sindaco Sì, sono d'accordo È una realtà molto bella Qua la spiaggia, tutto l'arenile I bagni attrezzatissimi Offrono servizi eccellenti Gli alberghi Questo pontile che è meraviglioso Poi possiamo vedere il mare È una cosa unica E quindi questo luogo Da qua si può vedere La parte pianeggiante E poi tutta la collina E poi si sviluppa fino ad alta quota Quindi direi che c'è tutto Da qui si parte E si possono percorrere anche percorsi naturalistici Ci sono gli spazi verdi Come in Versigliana, ciclopiste Cioè è una bellissima, veramente una bellissima realtà Anche spiagge meravigliose Poi attrezzate non Sono spiagge libere Ci sono delle spiagge attrezzatissime Dove offrono dei servizi eccellenti E quindi questo Un fior all'occhiello di questo territorio Quindi grazie a chi ha saputo investire A fare delle location veramente bellissime Che portano anche bella gente Questo fa piacere Perché poi la gente si riversa sul territorio E quindi abbiamo una ricaduta economica Anche veramente importante E anche promozionale Perché poi la gente viene, sta bene E' un susseguirsi di scambio di opinioni E quindi questo favorisce il nostro territorio Infatti c'è un target di riferimento molto ampio Possiamo dire, trasversale Sì, veramente Qui è un luogo molto frequentato da gente medio alta E quindi noi siamo veramente contenti E questo poi si riversa anche sulla qualità della vita Sulla qualità dell'ambiente Sulla qualità di tutto Il miglioramento dei servizi Che poi anche gli nostri imprenditori Sia per quanto riguarda il bagno Sia per quanto riguarda la ristorazione Sia per quanto riguarda tutto l'insieme Si porta a far sì che gli investimenti I miglioramenti sono continui Quindi sempre migliori servizi Per accontentare chi viene in vacanza Delle vere e proprie eccellenze, signor Sindaco Sì, sono veramente delle eccellenze Che si trovano solamente a Pietrasanta In modo particolare Quindi questo ci rende veramente orgogliosi Noi siamo in grado di offrire Dal mare fino alla collina Fino all'alta montagna Quindi abbiamo un territorio bellissimo Meraviglioso E bisogna saperlo mantenere E valorizzarlo allo stesso tempo Come dicevo, poc'anzi La sua unicità Che lo rende proprio un territorio Che offre di tutto E difficilmente replicabile Assolutamente Poi legato a quell'aspetto culturale e artistico Direi che siamo Abbiamo fatto un'alchimia perfetta E noi a questo punto Invitiamo tutti i nostri telespettatori Di Canale Italia Di venire qui In questo magnifico territorio Signor Sindaco Assolutamente Siete tutti invitati a venire A Pietrasanta Marina di Pietrasanta E quindi ci farete Sarete felici voi E saremo felici anche noi Grazie signor Sindaco Di essere stato così puntuale E esaustivo Nelle sue risposte E alla prossima Sempre a disposizione Non poteva mancare Ai nostri microfoni La grande organizzatrice di eventi Franca Dini Che è molto legata a questo territorio Ovviamente Benvenuta E ben trovata Franca Grazie a voi di avermi invitato Perché parlare sempre della Versilia Per me è una grande gioia So quanto ami la Versilia Come vivi la Versilia E quante cose organizzi in Versilia Vogliamo solo accennarne a qualcuna Perché sono così tante Ma insomma Sì Diciamo che sono partita dieci anni fa Con una rassegna musicale Che si chiama appunto Musica e parole E ogni anno vai in scena Al Teatro Comunale di Pietrasanta E poi anche altri eventi Poi incontri culturali alla bussola Abbiamo iniziato quest'anno Quindi abbiamo avuto un gran successo E ripeteremo l'estate prossima Con delle grandi novità E quest'anno Diciamo che la stagione primaverile 2022 Sarà il decennale della mia manifestazione Che ha visto salire sul palco Diciamo tutti i più grandi Degli cantanti, cantautori Degli anni 70, 80, 90 Ecco e volevo ricordare Che Franca Dini E l'anima e il cuore Del salotto culturale E proprio bussola incontra Che ha riscosso tanto tanto successo Sì grazie Sono molto contenta Siamo partiti in corsa Però devo dire Che è stata una grande soddisfazione Abbiamo avuto nomi importanti Mara Maionchi Marcello Lippi Alessandro Sallusti Tantissimi Dario Salvatori Dombachi E continueremo L'estate prossima A fare questa rassegna Che mi auguro Mi dia ancora Grandi soddisfazioni Comunque Io devo ringraziare Il comune di Pietrasanta Perché Sono dieci anni Che mi sostiene E Mi dà la possibilità Di fare queste cose Al teatro Comunale E sono felice Perché Aiuto anche Le persone Che stanno dietro le quinte Ma aiuto anche Il territorio Perché io vado In scena Praticamente Nel periodo morto Un po' Per destagionalizzare L'inverno Per creare ancora Interessi Novità E portare turismo Alla città di Pietrasanta Che devo dire In questi ultimi anni È veramente Rifiorita Grazie all'amministrazione Giovannetti Ecco perché Ti abbiamo fortemente voluta Per questa intervista E per Pietrasanta E dintorni Grazie ancora Franca Dini Grazie a voi Grazie a voi Grazie Ci troviamo nel Museo Dei Bozzetti Siamo insieme Alla dottoressa Chiara Celli Che è direttore Dei Musei Civici Di Pietrasanta E direttore scientifico Proprio di questo Bellissimo museo Allora Cosa vuol dire Essere direttore Di questo bellissimo museo E non solo Allora Intanto Buongiorno È un grandissimo privilegio Essere direttore Di questo museo Perché Prima di tutto Viviamo In un ambiente Spettacolare Armonioso Perché I bozzetti Ci fanno entrare In un mondo Da sogno E qui nel nostro museo Rimangono le idee Degli artisti E quindi Entrando qui dentro Si entra Nel mondo Dell'artista Ma non solo Anche dell'artigiano Perché come vedrete Sui bozzetti Ci sono dei segni Che sono chiodi Punti E altre indicazioni Che hanno dato Gli artisti Agli artigiani Per poter Tradurre In opera Questi Gessi Ecco dottoressa Ci sono più di 700 bozzetti In gesso Sì sì Sono circa 800 I gessi D'artista Poi abbiamo Anche altri 500 Gessi Di repertorio Perché Gli artisti Che sono venuti Qui a Pietrasanta Soprattutto A partire Dalla fine Degli anni 50 Inizio anni 60 Erano proprio Attratti Da questo luogo Perché Perché c'erano Questi artigiani Che di generazione In generazione Si erano passati Tramandati Il lavoro Della lavorazione artistica Del marmo Perché qui vicino Abbiamo Le cave di marmo E quindi storicamente Nel corso dei secoli Le famiglie A valle Delle Alpi Apuane Avevano imparato Questo mestiere Quindi gli artisti Sono venuti qui E hanno trovato Veramente L'ambiente Ideale Per poter Realizzare Tutte le opere Che gli venivano in mente Di qualunque dimensione Di qualunque materiale Con qualunque tecnica E c'è sempre stato Questo Lavoro d'equipe No? Questa collaborazione Fra L'artigiano Che aveva Una grande manualità Una grande conoscenza Dei materiali E l'artista Che aveva L'idea E veniva qui Con Diciamo L'idea in nuce Di quello che sarebbe Stato poi Il suo monumento E questo incontro È stato felice Ecco Diciamo così C'era Gio Pomodoro Diceva che Gio Pomodoro 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 Per capire La sinergia Che ci deve essere Fra un artista E un artigiano Per poter Arrivare a realizzare Grandi opere Che poi vanno In tutto il mondo Ecco Dottoressa Celi Un accenno Al parco scultura Sì Il parco scultura È un'ideale Prosecuzione all'aperto Del museo Dei bozzetti Praticamente Nel tempo Gio Pomodoro Gio Pomodoro Gio Pomodoro Oltre a lasciare Il bozzetto Qui a Pietrasanta Come in memoria Di questo connubio Artista artigiano Ha iniziato anche a donare Delle sculture Nella città Sono tante sculture Che sono state Disposte su tutto il territorio Anche sulle frazioni E che sono state Realizzate nel laboratorio Nelle fonderie Di Pietrasanta E qualificano il territorio Anzi diventano Proprio anche degli spazi Che vengono riprogettati Insieme all'artista stesso Quando viene collocata L'opera E sono tutte sculture Che si possono visitare Andando a piedi In centro storico In bicicletta alla marina Oppure con le macchine Nelle frazioni collinari Abbiamo parlato proprio Col sindaco Giovannetti Dell'importanza Dei laboratori artigiani Qui a Pietrasanta Sì È proprio Diciamo Ciò che caratterizza Pietrasanta Altrimenti gli artisti Mica verrebbero qui Ed è fantastico Vedere anche Il rapporto Che c'è Fra l'artista E l'artigiano Che è variabile Non è mai Dello stesso tipo Ci sono artisti Che vengono qui E collaborano Con l'artigiano Nel compiere l'opera Stanno gomito a gomito Fianco a fianco Dell'artista L'artista e l'artigiano Per realizzare l'opera Invece Ci sono altri artisti Che Danno il bozzetto All'artigiano E gli dicono Mi fido di te E poi ogni tanto Vengono a controllare L'opera In fase di esecuzione Altrimenti ci sono degli artisti Che semplicemente Usano gli spazi Degli artigiani Ma realizzano Da soli Le proprie sculture E quindi ecco C'è anche questa Varietà di rapporto Che esiste Fra l'artista E l'artigiano Che ha una grande Ricchezza E poi In ogni caso Questo ambiente Che è frequentato Da così tanti artisti Di tutto il mondo Portano Innovazione Portano nuove idee Quindi diciamo Che anche Che noi che lavoriamo qui Oppure i cittadini Oppure i turisti stessi Si trovano immersi In un ambiente creativo E questa è la sua bellezza E proprio la sua bellezza Io la ringrazio Dottoressa Celli Per essere stata così Puntuale e esaustiva E invitiamo tutti i nostri Telespettatori A visitare il Museo dei Bozzetti E venire qui A Pietrasanta La piccola Atene Vi aspettiamo Cari amici Ci troviamo qui Nell'azienda Galeotti Azienda di Marmi Sempre a Pietrasanta E siamo insieme I fratelli Francesco e Paolo Nello Allora Qui si parla Di quarta generazione Perché ricordiamo Che questa azienda È stata fondata Nel Buongiorno Innanzitutto Sì È stata fondata Nel 1883 Dal mio bisnonno Vincenzo Galeotti E dopo In un piccolo fondo Qui nel centro Di Pietrasanta Dove lui ha iniziato Dopo aver girato Un po' il mondo E si è dedicato Alla lavorazione Del marmo Come Diciamo così Era In maggior parte Nella zona di Pietrasanta E quindi Ha cominciato Questa tradizione Ecco Paolo Nello Allora Intanto Le competenze Sono diverse Tra fratelli Tu di cosa Ti occupi In particolare Ma io mi occupo Più della parte Logistica Dell'organizzazione Della lavorazione E la lavorazione Architettonica Mentre Francesco È più Diciamo Dalla parte Scultorea E artistica Allora Maestro Francesco Galeotti Ricordiamo anche Il suo background Allora Gli studi Studi d'arte Dopo Accademia Di belle arti A Carrara Con una tesi La vogliamo ricordare? Ho fatto Una tesi Sullo sport Diciamo così Nell'arte Nella scultura Attraverso Lo studio Di varie figure Come per esempio Nello stadio A Roma Dove ci sono Tutte queste figure Che rappresentano Varie discipline Sportive E varie ricerche Che ho fatto Diciamo così Attraverso Un'altra biblioteca A Firenze E altri artisti Che comunque Hanno in un modo Nell'altro Trattato Lo sport Nell'arte Allora Abbiamo detto Un background Culturale Importante Di studi Vogliamo dire Allora Qui Allora C'è molta arte Anche sacra No? Perché vi occupate Molto anche Di arte sacra Ricordiamo anche Che addirittura Delle opere Qui Della famiglia Galeotti Si trovano Anche in Vaticano Alcune Sì Qualcosa In passato È stato fatto Qualche cosa Anche per il Vaticano Sì E poi Parliamo anche Delle committenze Perché voi Siete conosciuti Veramente A livello internazionale Grandi artisti No? Vengono qui da voi Diciamo che Artisti Sì Internazionali Forse non molto famosi Però Diciamo così Da tutto il mondo Ecco Cosa offrite Qua All'artista Che viene da voi Come lavoro Cioè La finitura Parliamo Non so Dei vari step Beh Noi Offriamo Praticamente L'assistenza Per tutto il tipo Diciamo così Di fasi Di lavorazione Della scultura O meglio Alcuni portano Per esempio Il modello O il bozzetto Diciamo così Della scultura Che hanno in mente Di fare E noi La realizziamo Sia Ingrandendola O Alla stessa misura Diciamo così Di come loro La vogliono Realizzare E possiamo fare Sia la fase Iniziale Cioè la parte Di preparazione Della scultura E poi lasciare a loro La rifinitura Oppure anche Completarla Diciamo così Nella Totalità Cioè fare Dalla prima fase Alla fase iniziale Magari Con la supervisione Dell'artista stesso In base a quello Che noi dobbiamo fare Ecco parlando anche Di statuaria Di grandi sculture Io vorrei ricordare Che in Europa C'è una cosa unica E ricordiamo qui Il vostro grande babbo Io vorrei ricordarlo Sì il mio babbo Ha avuto Questa Diciamo così Idea insieme Al dottor Dragan Una persona Molto importante Della Romania E hanno avuto Quest'idea Di realizzare Decevalo In una parte Della montagna Vicino al Danubio E è stata una realizzazione Importante Ecco a livello europeo È la scultura Più grande in assoluto Vogliamo ricordare Quanti metri sono Paolo? Sono 43 metri Questa testa È grande 43 metri E il naso È 7 metri Ecco solo per dare Un'idea Di quello che Di quello che sono Le dimensioni Di questa opera Ecco parliamo Delle vostre opere Maestro Parliamo proprio Della scultura Classica No? Di quello che troviamo qua E parliamo anche Del bianco Dello statuario Perché come diceva Michelangelo Già attraverso il blocco Capiva già Quello che voleva fare Cosa vuol dire Lavorare il marmo? Beh Lavorare il marmo È una cosa Come dire Di grande passione Perché Dà la possibilità Di realizzare Qualcosa Che uno ha in mente Che uno si immagina Che uno desidera E il marmo Ha Come tanti altri materiali Le caratteristiche Per poter fare cose Diciamo così Molto delicate Molto ricercate E molto curate Ecco parlando Della nuova generazione Perché qui È molto importante Parlare proprio anche Di tradizione E innovazione Cioè Conservare Ciò che è stato Però dando anche Quell'apporto di novità Di innovazione Diciamo che Dal punto di vista Di innovazione Noi siamo Un pochettino Come dire Indietro Nel senso Che noi Non utilizziamo Per esempio La robotica Nella scultura Come tante altre aziende Hanno introdotto E noi Lo facciamo Per due motivi Principalmente Prima perché Diciamo I nostri clienti Per la quale Lavoriamo Non hanno tanto Interesse A far sì Che le cose Siano fatte Attraverso un robot Ma Più che altro Fatte proprio Dalla capacità Della Manuale Esatto E poi Un altro problema È che Diciamo così Noi non abbiamo Un volume di lavoro Particolarmente Grande Da poter avere Diciamo così L'aiuto di un robot Che Come dire Ci sollevi Tanti Tante fasi Diciamo Di lavorazione Per cui Per il momento Anche se ci abbiamo pensato Perché Ci abbiamo pensato In effetti Però al momento Non abbiamo ancora Introdotto Comunque questa Francesca È la vostra cifra Perché questo È un Cari amici Ricordiamo che È un laboratorio Artigianale E qui a Pietrasanta Devo dire E qui troviamo Delle botteghe Artigiane Uniche Noi È proprio la ricchezza Della piccola Tene Trovare qui Nella famiglia Galeotti Questi due Meravigliosi Francesco E Paolo Che continuano Una tradizione Così bella Così importante Perché mi ha detto La quarta generazione E riescono a fare Delle opere D'arte Bellissime Incredibili Ricordiamo anche Una Allora Una delle ultime opere Un busto importante Francesco Lo vogliamo ricordare Certo Attraverso un amico Praticamente Mi è stato commissionato La realizzazione Di un busto Che rappresenta Un uomo Che purtroppo Non c'è più Ma che gli amici Hanno deciso Così Di dedicargli Un pensiero Comunque Come dire Un omaggio Realizzando Appunto In suo ricordo Questo busto Che lo ritrae E Avendo anche La possibilità Di collocarlo Appunto In un campo sportivo Dove lui è cresciuto Fin da bambino E Praticamente Ha passato La maggior parte Del suo tempo Diciamo così Di divertimento E quindi Ecco Questo è Un altro aspetto Diciamo così Della nostra lavorazione Che possiamo fare Anche cose Tra virgolette Molto classiche Ma molto più originali Cioè La realizzazione Di una copia Di una persona Dall'inizio Alla fine Praticamente Dalla realizzazione Del modello Fino alla realizzazione Della copia Definitiva In marmo E voi partite Dall'arte sacra No? Ricordiamo anche Per esempio Un bellissimo padre Pio Sì Diversi anni fa Abbiamo realizzato Un padre Pio Che è andato giù Proprio In un paesino Vicino Al suo paese nativo Che è stato collocato Praticamente Di fronte A un ingresso Di una casa Di accoglienza Per persone anziane La quale Lo ritrae Appunto Nel dare Come dire Sollievo A una donna Che lo accoglie Io volevo ricordare Francesco Molte vostre opere Si trovano In tante chiese Sì In tante chiese Di vario genere Cioè Di vari paesi Tra Spezia Torino E altre città Io ne ricordo poche Però ne abbiamo fatte tante Di madonna E di santi Anche per la Bolivia Abbiamo mandato fuori Ricordiamo anche la Bolivia Anche in altri paesi Insomma Ecco io so che anche Questo laboratorio Ha anche una funzione educativa Per dire Per chi vuol venire a visitarlo Per capire Quali sono le fasi di lavorazione Questo è molto bello Per esempio Anche dei bambini Che vengono qua Certo Infatti Purtroppo a causa del covid Sono saltati Però Erano in programma Alcuni appuntamenti Con delle scolaresche Diciamo così Per far conoscere Appunto a loro Come dire La lavorazione del marmo E le varie fasi Di come si arriva A fare determinate cose In marmo Sia nella parte scultoria Che nella parte architettonica Se vogliamo E comunque Alcune volte Arrivano anche Dei turisti Che Praticamente Chiedono O comunque Insomma Guardano Impuriositi Come vengono realizzate Appunto Sia le sculture Che gli oggetti Di architettura E qui trovano Praticamente Una piccola realtà Che crea cose Molto molto artigianali Cioè proprio fatte a mano Escusamente a mano Questa è la vostra cifra E mi avviso È proprio una chicca Io vorrei ricordare A chiusura di tutto La figura Del vostro Grandissimo padre Eh sì Una persona Che ci ha Diciamo Trasmesso Questa voglia E questa capacità Anche se vogliamo Di lavorare E di apprezzare Tutte le caratteristiche Del marmo E di quello Che ne può avvenire fuori Ecco Adesso Ecco Così Vogliamo ricordare Il nome del babbo Certo È Mario Galeotti Mario Il grande Mario Allora cosa dire ai nostri amici Di Canale Italia Vi aspettiamo tutti qui A Pietrasanta A visitare L'azienda di Marmi Galeotti Paolo E Francesco Eh? Cari amici Vi aspettiamo Grazie Per Pietrasanta Edintorni Ci troviamo qui Al punto G Art Gallery In via Barsanti Insieme all'artista Lago Monique Dupont In arte lago Ben trovata Buongiorno Manuela Ben trovata Lago Come concepisce L'arte? Lago Concepisce L'arte Come un linguaggio Universale In realtà Io mi occupo soprattutto Di riciclo Di riuso direi In inglese si dice Upcycling Cioè un riuso Che dà qualità in più È nato in realtà Io all'inizio dipingevo Delle marine Perché abitavo in Sicilia Sul mare E passeggiando a mare Raccoglievo con le bimbe Degli oggetti Con i quali poi fabbricavo Delle piccole sculture Delle piccoli personaggi Che poi dipingevo Ai bambini Sulle magliette Da lì è nata Una passione Per il riuso Perché per me In natura Esiste già tutto Ed è semplicemente L'occhio Che deve cogliere Quel tutto Che ci presenta Già l'esistenza In qualche maniera Attraverso questo Rielaborare Il nostro proprio vissuto Ovviamente io Non posso prescindere Dal mio vissuto Però lo posso In qualche maniera Lenire E Come dire Trasformare Questa trasformazione È alla portata Di tutti A mio avviso È anche per questo Che faccio i corsi Di arte Di avviamento All'arte Non convenzionali Ecco Lago Qui davanti Abbiamo Un'opera Molto molto Bella Che a me lo sai Ha colpito Fin dall'inizio Ce la vuoi descrivere Un po' Nei dettagli Questo toro Che vedi qua È interamente realizzato Con pezzi Che ho trovato a mare In Sicilia Quindi è un ricordo Della Sicilia Che mi porto dietro E Io Ascolto il materiale In realtà Non parto mai Con l'idea Voglio fare Una testa Voglio fare Un animale Un personaggio No Mi metto in lato Tocco i materiali E cerco di capire Quello che mi raccontano Quello che mi trasmettono Per questo Riusare i materiali In qualche maniera È una magia Perché Hanno già una loro storia Che noi non conosciamo Di cui siamo all'oscuro Però che possiamo Come dire Rielaborare E farne diventare Un'altra storia nuova Per cui tu Quando cominci un'opera Con questi materiali Non sai mai Poi quest'opera Come diventerà E cosa sarà Assolutamente Non lo so Mi sorprende Mi sorprende Per prima Praticamente Sono sempre sorpresa Di vedere I risultati Dei miei lavori Poi Di solito Faccio Un tridimensionale Come questo Molto materico E poi dopo Faccio una Trisposizione Trasposizione Pittorica Questo era Un altro pezzo Che era Leggermente Più piccolo All'originale Poi ovviamente La pittura Mi dà poi L'opportunità Di creare Uno sfondo Diverso Colori diversi E misura Anche a volte Dimensioni diverse Noi ti ringraziamo Invitiamo Tutti i nostri Telespettatori A venire qua A Pietrasante Via Barsanti Qui nella tua galleria Qui nella tua galleria Al punto G Art Gallery Li invitiamo Sì Sì Li invitiamo Con piacere Grazie a tutti La trasmissione È stata offerta E la trasmissione E la trasmissione E la trasmissione A E la trasmissione Grazie a tutti.